Musica Suicida l'università, la marcia per Giada. Numerosi studenti hanno marciato in silenzio. Un gesto in memoria per la 25enne della provincia di Sernia che si è tolta la vita nel giorno delle sedute di laurea. Commovente il messaggio di un professore. L'università non è una gara. Vaccini, bimbo espulso da scuola. Una coppia di genitori di Napoli si è rivolta alla polizia per far riammettere in classe il proprio figlio espulso dalla materna perché non vaccinato. È l'epilogo di un braccio di ferro tra la dirigente dell'Istituto Comprensivo di Bagnoli e un gruppo di genitori. Lotta al crimine polizia in trincea. Celebrato il 166esimo anniversario della Fondazione della Polizia, il questore di Napoli dice che gli agenti possono sbagliare. A Benevento, il presidente Oreste Vigorito, che ha presenziato la festa, assicura torneremo a festeggiare al Rione Libertà. Ucciso di botte, preso l'aggressore. La tragedia nel luglio scorso, durante una festa in un locale di Benevento, arrestato un 28enne, Silvio Sparandeo, sarebbe stato lui a massacrare di botte Antonio Parrella. Per lui l'accusa è di omicidio. Anzalone attacca Foti, grave scorrettezza verso la nuova amministrazione, ma l'assessore Penna chiarisce. Il nostro piano migliorerà l'impianto di Piano d'Ardine. I comitati sono sul piede di guerra. Lucida artista, nuovi veleni. Dopo il verdetto del Tarra Salerno, l'opposizione torna all'attacco, ma il sindaco Napoli esce allo scoperto e chiarisce. L'evento non è assolutamente in discussione, ma la battaglia ora si sposta al Consiglio di Stato. Buonasera dal TG 696. In apertura la tragedia di Giada, suicida all'Università di Monte Sant'Angelo a Napoli. L'ultimo saluto del fidanzato è la lettera di un docente che invita tutti gli studenti a capire che l'Università non è una gara. Vediamo il servizio di Simonetta Ieppariello. La tragedia di Giada, la ragazza di 26 anni che si è lanciata dal tetto della Federico II di Monte Sant'Angelo a Napoli, ha scosso il mondo universitario di tutta Italia. Oggi silenzio e mazzi di fiori sul luogo della tragedia con docenti e studenti riuniti nel dolore. Come la toccante lettera del docente universitario Guido Saraceni sulle lauree e sull'attenzione che troppo spesso accompagna gli studenti a volte schiacciati dal carico di attese dei genitori. L'università non è una gara, ha nota il professore Saraceni. Non serve per dare soddisfazione alle persone che ci circondano. Non è un'affannosa corsa ad ostacoli verso il lavoro. Intanto oggi amici e compagni della ragazza hanno osservato lunghi minuti di silenzio raccolti sul luogo della tragedia dove Giada ha interrotto la sua vita e le sue speranze lanciandosi dal tetto dell'edificio di geologia. Il professore Saraceni intanto continua nella lettera d'invito alla riflessione agli studenti Per quanto mi riguarda la giornata delle lauree è un giorno di lavoro non meno faticoso e stressante degli altri eppure la giornata delle lauree per me è anche una giornata gioiosa. Lo sguardo orgoglioso dei genitori i festeggiamenti, tutto secondo Saraceni ha il sapore della speranza nel futuro ma attenzione quella speranza non deve essere trasformata in tensione, in pressione verso i giovani la perfezione, osserva Saraceni non deve essere rincorsa per forza Giada non è riuscita a sopportare quel peso ai familiari, agli amici e al fidanzato che erano arrivati dal Molise aveva detto che ieri si sarebbe laureata così non era e Giada ieri non aveva fatto tutti gli esami e nell'elenco il suo nome non c'era Una coppia di genitori di Napoli si è rivolta alla polizia pur di far riammettere in classe il proprio figlio espulso da una scuola materna perché non vaccinato e non riammesso nonostante la consegna di un piano di somministrazione presentato in base alla normativa vigente come sottolinea il legale della coppia e l'epilogo di un braccio di ferro tra la dirigente dell'istituto comprensivo statale Madonna Assunta del quartiere di Bagnoli e un gruppo di genitori due dei quali hanno presentato l'esposto la dirigente spiega l'avvocato corporente legale di quattro delle famiglie interessate al provvedimento di espulsione ha applicato in maniera estensiva il termine del 10 marzo per la presentazione della documentazione all'ASL tale termine era da applicarsi solo per chi ad inizio anno ha presentato l'autocertificazione e non come nel caso dei miei clienti per chi ha prodotto e presentato un piano di vaccinazione che può essere portato a termine entro la fine dell'anno e la polizia festeggia 166 anni dalla sua fondazione le cerimonie in tutte le città campane l'impegno dei questori è contro la criminalità 166 anni di impegno nella lotta al crimine all'illegalità e al rispetto delle regole la polizia oggi festeggia la sua fondazione anche nei capoluoghi i campani, gli agenti hanno reso onore al compleanno del loro corpo a Napoli il questore De Jesu ha detto che è un'occasione per celebrare il lavoro di tutti i poliziotti al di là degli errori dei singoli riferendosi all'episodio dei due agenti ripresi mentre schiaffeggiavano un ragazzo errori si fanno perché siamo uomini poliziotti non siamo macchine ma l'importante è avere la consapevolezza degli errori andare avanti e migliorare nella nostra attività ad Avellino il questore Luigi Botte che ha fatto da padrone di casa al conservatorio Cimarosa dove si è svolta la cerimonia ha rimarcato l'impegno della polizia contro la criminalità presente sempre e ovunque noi non sottovalutiamo nulla perché sappiamo che ci sono alcune zone che hanno come vulnus la criminalità organizzata l'importante è essere consapevoli come ho avuto già modo di dire che molte volte i contesti di criminalità comune non sono altro che una spia a Salerno la festa della polizia è stata celebrata al Duomo una celebrazione particolare considerando che per motivi diversi quest'anno per la prima volta ha visto l'assenza sia del prefetto che del questore a Benevento la festa è stata celebrata in piazza San Modesto nel popoloso rione Libertà una scelta non casuale ma una precisa volontà di sottolineare la presenza delle forze dell'ordine e la vicinanza a tutto il territorio come evidenziato nel suo discorso dal questore di Benevento Giuseppe Bellassai e alla festa della polizia di Benevento anche il presidente dei giallorossi Oreste Vigorito che ha detto qui abbiamo festeggiato la serie A qui torneremo per festeggiare le altre vittorie vediamo abbiamo scelto il rione Libertà perché esserci sempre è per tutti ma di più per quanti hanno bisogno e sono in difficoltà e per loro il nostro esserci sempre si arricchisce di umana solidarietà per la prima volta Benevento festeggia la polizia al rione Libertà in piazza San Modesto per una cerimonia affollata intensa cerimonia in cui il questore ha ricordato le sinergie con le realtà cittadine tra queste quella con il Benevento Calcio perché la serie A potesse essere vissuta come una festa parole riprese anche dal presidente giallorosso Oreste Vigorito che parla di cuore sogni ed emozioni quelle regalate alla città e che la città gli ha restituito nel corso degli anni Ci sono dei momenti in cui questa città riporta a galla i valori che fanno parte della mia vita della mia famiglia e lo fa sempre nei momenti più difficili Freud disse che la cosa più brutta non è quella di non realizzare i sogni ma quella di perdere la speranza di realizzarli i sogni a volte si sfumano vanno via ma non perdiamo mai la voglia di realizzarli perché se non perdiamo quella possiamo continuare a vivere esserci sempre parlavano di essere in questo quartiere dove io so che c'è il covo del tifo giallorosso io credo che sia stata una scelta meravigliosa quella di essere qui in mezzo alla gente mi ricordavano che questo è il posto dove festeggiamo la prima promozione oggi non festeggeremo promozioni però potremmo festeggiare la continuità e chissà che forse non sarà bello tornare qui a fare qualche altra festa per i colori giallorossi e per la gente di questo posto andavano sul lungomare in bici scooter a passeggiare e sbrigare facendo invece di essere al lavoro il nuovo scandalo furbetti in Campania i parcheggiatori del comune di Pozzuoli filmati a spasso dopo aver fatto veggiare al collega il tutto timbravano il cartellino e poi sparivano c'era chi andava in bici oppure a passeggio sul lungomare di Pozzuoli e perfino in vacanza nuova operazione contro i cosiddetti furbetti del cartellino stavolta accade nell'area flegrea a Pozzuoli dieci presunti dipendenti infedeli che alle cinque di questa mattina sono stati raggiunti nelle loro abitazioni e arrestati dai carabinieri della stazione di Licola si tratta di dieci lavoratori del parcheggio comunale di Via Napoli dipendenti del comune di Pozzuoli e lavoratori socialmente utili a sette degli indagati è stata contestata l'associazione per delinquere perché non si limitavano alla timbratura per conto di colleghi assenti ma si erano accordati per collocare i badge di tutti in un cassetto da dove ognuno di loro a turno poteva prenderli per timbrare le misure cautelari sono state decise dopo indagini dei carabinieri di Licola di Pozzuoli che grazie a riprese investigative e riscontri effettuati tramite pedinamenti hanno documentato che alcuni dipendenti in orari in cui risultavano al lavoro erano in realtà sul lungomare di Pozzuoli in bici piuttosto che in scooter insomma tutto refertato con video e foto che mostrano quanto facevano i dipendenti invece di essere sul proprio posto di lavoro svaghi e passeggiate con missioni relax invece di lavorare la procura generale presso la Corte dei Conti avverai accertamenti per stimare il danno erariale e procedere ovviamente al recupero di quanto i dipendenti infedeli avrebbero con il loro comportamento sottratto allo Stato poi toccherà all'amministrazione procedere per eventuali sospensioni dal posto di lavoro il rischio ovviamente è il licenziamento è stato arrestato dalla squadra mobile di Benevento il 28enne accusato di aver ucciso di botte ad una festa un 32enne lo scorso luglio non voleva ucciderlo ma solo dargli una lezione per aver rovinato il clima di festa proprio al taglio della torta una lezione che però è costata la vita ad Antonio Parrella 32 anni ucciso di botte ad una festa lo scorso 26 luglio a Benevento in un ristorante di Contrada Pino questa mattina la squadra mobile è arrestato con l'accusa di omicidio pretere intenzionale Silvio Sparandeo 28 anni una festa alla quale secondo la ricostruzione curata dalla procura guidata da Aldo Policastro effettuata anche grazie alle immagini registrate da una telecamera di una vicina abitazione sarebbe stato fatto un uso smodato di alcol che avrebbe portato a due litigi dopo il secondo Antonio Parrella era poi fuggito inseguito da Silvio Sparandeo fino al parcheggio dove ci sarebbe stata l'aggressione solo 13 secondi nei quali Silvio Sparandeo aveva colpito Parrella con tre pugni al viso ed un calcio le condizioni di Antonio Parrella erano apparse immediatamente critiche ai sanitari del rumo dove il ragazzo dopo i pugni e i calci subiti è ispirato due giorni dopo per una devastante emorragia cerebrale con la nostra festa vogliamo trasmettere un maggiore senso di sicurezza alla popolazione beneventana e il risultato di stanotte credo contribuisca in tal senso blitz della polizia penitenziaria nelle celle del carcere di Salerno durante una perquisizione nella casa circondariale di Fuorni gli agenti della prima sezione detentiva hanno trovato all'interno delle celle droga un telefono cellulare e una sim card a darne notizia è Emilio Fattorello del SAP Campania decine di poliziotti penitenziari sono stati impegnati questa mattina all'alba in una operazione di contrasto al possesso di oggetti leciti nel carcere trovando materiale interessante anche sotto il profilo investigativo si legge nella nota del segretario regionale del sindacato di polizia andiamo ad Avellino e scontro sull'ampliamento dello stir di piano d'ardine l'assessore all'ambiente penna chiarisce abbiamo approvato un piano per rendere più efficiente l'impianto nessun ampliamento dello stir ma solo un miglioramento dell'impianto a precisarlo è l'assessore all'ambiente Augusto Pena che questa mattina ha ribadito la volontà dell'assessorato a rendere più efficiente l'impianto precisando che non è nella sua competenza decidere o meno per la delocalizzazione L'azione dei sindaci l'azione forte fatta su tutti i tavoli ha costretto ha convinto il Pini Ambiente a recedere da questa posizione e ieri è stato approvato un progetto che non solo non prevede l'ampliamento ma prevede una riduzione dei rifiuti trattati allo stir di piano d'ardine e oltre alla riduzione prevede una serie di presidi a salvaguardia dell'ambiente e delle persone filtri scrubber zone di contenimento per evitare che non solo emissioni nocive potenzialmente nocive possano venire da quel sito ma anche fastidi odori così come sta avvenendo oggi quindi lo stir nel frattempo che si realizzerà la delocalizzazione nel frattempo che lato deciderà dove realizzare i nuovi impianti noi abbiamo preteso che funzionasse meglio funzionasse con le migliori tecnologie disponibili è un successo per tutti è un successo per l'ambiente è un successo per i cittadini soprattutto di quella zona contro l'amministrazione comunale si è scagliato non solo il comitato della valle del sabato ma anche il candidato sindaco Luigi Anzalone il quale in una nota accusa Foti di aver dato ulteriore contributo all'inquinamento della valle di piano d'ardine al comune non importa chi vince ci tiriamo fuori dalla contesa per noi è fondamentale che l'evento si faccia nel migliore dei modi e il sindaco di Salerno Enzo Napoli commenta la decisione del TAR di revocare la giudica del bando per le luci d'artista non è importante chi gestirà l'evento ma che si faccia nel miglior modo possibile dopo alcuni giorni di riflessione il sindaco di Salerno Enzo Napoli rompe il silenzio e commenta la decisione del TAR che ha revocato l'affidamento delle luci d'artista alla IREN di Torino la battaglia giudiziaria con il primo round ha giudicato i francesi di Blanchard Illumination e che vedrà una seconda puntata davanti al Consiglio di Stato non deve però inficiare la manifestazione spiega la fascia tricolore che è diventata il simbolo della città di Salerno i miei uffici stanno valutando le carte io faccio una considerazione molto semplice il TAR non ho letto nel merito il deposito della sentenza ma comunque il TAR sostanzialmente ha fatto una valutazione che non espone l'amministrazione a rischi di rimborso spese ed è entrata nel merito invece per l'affidamento per noi per me ma per noi che la faccia Blanchard o che la faccia IREN non ce ne importa assolutamente nulla in tutta questa scusate la brutalità dell'affermazione a noi interessa che la manifestazione si faccia e si faccia nel miglior modo possibile chi la fa la deve fare al meglio non ci interessa che sia Blanchard IREN o altri se va avanti daremo dei tempi strettissimi a chi dovrà realizzare le opere e quindi si andrà avanti con tranquillità La commissione toponomastica su proposta dell'assessore delegato Alessandra Clemente ha deciso di promuovere una consultazione popolare per scegliere il nuovo nome della galleria laziale le ipotesi al vaglio saranno galleria napoletana galleria partenopea o galleria flegrea la commissione presieduta dal sindaco dei magistris e dall'assessore Clemente ha deciso l'attribuzione di alcuni nuovi toponimi cittadini a Nanni Loi il regista del film le quattro giornate di Napoli sarà intitolata un'area di circolazione da individuare mentre Annunzio Gallo popolare artista napoletano sarà intitolata su proposta del consiglio della seconda municipalità una strada nella Pignasecca attesa per domani la decisione del GIP sulle sorti di Domenico Senatore il 35enne di Nocera Superiore è in stato di fermo indiziario per omicidio volontario aggravato per aver travolto e ucciso con la sua auto l'uomo che perseguitava una sua amica vediamo ore decisive per il delitto dello stalker di Nocera Inferiore il magistrato domani conferirà l'incarico per l'autopsia che fornirà dettagli importanti per risalire alle cause della morte dell'uomo intanto è attesa a breve la decisione del GIP Alfonso Scermino sulle sorti di Domenico Senatore interrogato dal giudice dovrà fornire la sua versione su quanto accaduto nella notte tra sabato e domenica quando ha investito e ucciso il 43enne Salernitano Fabrizio Senatore attualmente nel carcere di Forni in stato di fermo di indiziato per omicidio volontario aggravato dai futili motivi il 35enne di Nocera Superiore agli inquirenti avrebbe parlato di un tragico incidente di aver investito per sbaglio Fabrizio Senatore facendo retromarcia con la sua Fiat Bravo in un primo momento aveva sposato invece la tesi della rapina andata a male quella notte aveva appena accompagnato in via Fluminale a Nocera Inferiore l'ex fidanzata della vittima della quale l'uomo era ossessionato a tal punto da perseguitarla finendo agli arresti domiciliari il 43enne era lì proprio per controllare la donna poi l'incontro con Domenico Senatore e il tragico epilogo due pitbull hanno sbranato un cagnolino e denunciato il proprietario dai carabinieri è successo a Montoro in Irpinia dove i due cani hanno scavalcato la recinzione dell'abitazione per poi azzannare l'animale il proprietario dei due cani dopo gli accertamenti del dipartimento di prevenzione veterinario di Avellino è stato denunciato dai militari di Montoro per omessa custodia e malgoverno di animali i pitbull sono stati sottoposti a sequestro sanitario affidati a un canile municipale della zona nuove regole per scongiurare gli scempi della Movida ma anche per incassare più soldi grazie alla chiarezza delle procedure a Salerno bilancio positivo per i primi dieci mesi del nuovo regolamento sui deors delle attività commerciali obiettivo eliminare il caos nei luoghi simbolo della Movida e razionalizzare anche da un punto di vista architettonico e deore in città a Salerno è tempo di bilanci per l'assessore al commercio Dario Loffredo a dieci mesi di distanza dall'entrata in vigore delle nuove norme per gli esercenti e martedì in consiglio comunale arrivano anche le indicazioni rinnovate per il cuore commerciale della città in particolare nel tratto che va dalla chiesa di Santa Lucia a quella dell'Annunziata lungo la centralissima via Roma abbiamo visto che il dato è molto confortante infatti all'inizio si pensava che si favorivano le case all'aperto come si dicono no le strutture chiuse invece no il nostro regolamento infatti ha disincentivato questo solo l'83% degli esercenti su tutto il territorio cittadino hanno preferito solo tavoli e sedie perché questo? perché praticamente noi abbiamo fatto degli sconti importanti per quanto riguarda chi sceglieva l'opzione solo tavoli e sedie il 20% in meno l'anno scorso abbiamo recuperato oltre 590 mila euro per quest'anno in corso il 2018 le somme saranno quasi 700 mila euro questo sta a significare che quando dai delle regole certe in 30 giorni la risposta di una pratica che sia positiva o negativa le persone pagano perché hanno delle regole corrette presenteremo il primo piano d'ambito che andrà nella zona più distintiva della città per quanto riguarda la movita e va dalla chiesa di Santa Lucia al teatro verde e ci sarà praticamente tutto via Roma tutti quelli che vogliono avere un dehors si devono uniformare per dare una coerenza architettonica trasparenze materiale leggero cubo di vetro per rendere sempre più la nostra città accogliente e finire soprattutto di questo scempio che c'è di fronte al comune la dirigenza dell'azienda sanitaria locale di Benevento ha aperto un'inchiesta interna per fare chiarezza rispetto ai fatti denunciati da una cittadina che avrebbe interessato poi il comportamento dei dipendenti della struttura di via 24 maggio il riferimento è all'episodio per il quale la cittadina che chiedeva assistenza sanitaria per il figlio adottivo originario della costa d'Avorio si era sentita rispondere dai dipendenti e dalla dirigente di ritornare perché in quel momento erano stanchissimi la donna aveva postato su Facebook un videodenuncia oggi la dura presa di posizione dei vertici dell'ASL che sottolineano l'azienda prende le distanze e censura qualsiasi atteggiamento del personale che ingiustificatamente crei disagi ai cittadini utenti atteggiamento che contraviene a quella che è la mission di questo management e al concetto di sanità pubblica in generale ed è tutto pronto per il Vinitali la Camera di Commercio di Avellino ha programmato una serie di iniziative per promuovere il territorio è tutto pronto per Vinitali come ogni anno anche l'Irpinia partecipa attivamente all'evento grazie alle iniziative messe in campo dalla Camera di Commercio un'occasione per promuovere le eccellenze del nostro territorio come sottolinea il presidente Oreste La Stella torniamo a Verona con 99 aziende l'80% della produzione di vino certificato in Irpinia rappresentato negli spazi della Camera di Commercio di Avellino quindi diciamo effettivamente una presenza a dir poco qualificata e anche numericamente corposissima noi abbiamo una carta come quella dei vini da giocare quindi dalla Camera da un lato chiaramente supporta il settore anche con investimenti costosi e importanti però ci rendiamo conto che oltre a essere un fiore all'occhiello effettivamente una componente importantissima da un punto di vista imprenditoriale e di capacità produttiva della nostra provincia però dall'altro lato noi dobbiamo assolutamente cogliere un'occasione come il Vinitali per fare in modo che effettivamente a livello turistico si faccia un ragionamento utilizzando la logica del buon padre di famiglia quindi investendo quello che è giusto investire ma cercando anche di ottenere risultati ed è tutto con il nostro TG grazie della vostra attenzione ora ci sono le previsioni meteo e poi il TG Sport il TG Sport Grazie a tutti.